Ciao amici di Mr.Cadget, finalmente ci siamo, è venuto il momento di conoscere fino in fondo il nuovo OnePlus 6. Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto OnePlus con, diciamo, un incontro ravvicinato, un vero e proprio hands-on con il telefono. Adesso invece andiamo a vedere da vicino come questo smartphone funziona e si comporta. Apriamo la scatola magica, quella che OnePlus sta per spedire anche nelle vostre case o che troverete in versione superidotta solo oggi, praticamente per chi vede il video in tempo reale, nello store di Milano. E dentro la scatola troverete intanto il telefono, poi lo riguardiamo con estrema calma, e poi, sempre nella confezione ufficiale di OnePlus, una cover in silicone supergradita, perché il telefono, insomma, diciamo che è una discreta calamita per le ditate. Poi, sempre nella confezione Dash Charge, che vedete, quindi mezz'ora di carica per una giornata intera di lavoro, e poi il cavo, ma questo, insomma, l'avevamo già visto anche l'altra volta, tra l'altro, con questi dettagli, no, molto curati, addirittura del cappettino, del tappettino che c'è sopra il cavo USB Type-C. Queste, dunque, le caratteristiche della confezione, ma com'è il telefono? Beh, ce lo guardiamo bene, bene, bene da vicino. E, attenzione, potreste aver visto proprio già qualche cosa di rilevante. Avete visto che movimento io ho fatto sul display? Lo rifaccio di nuovo. Uno swipe, in pratica una gesture che può, se volete, sostituire i tasti funzione sul display. Allora, intanto voi lo sapete che questo è un display molto grande, oltre i 6,2 pollici per un display AMOLED, leggibilità veramente spettacolare, 19 noni di proporzione. Sapete che, insomma, l'abbiamo già detto anche per altri telefoni, per avere la gestione perfetta del notch bisognerà attendere Android P. Però, intanto, un display molto bello, cancelliamo tutte le notifiche, un software che praticamente è quasi stock in quasi tutti i suoi aspetti, tranne i miglioramenti che vengono fatti da OnePlus, tra cui è questo con cui si gestisce la barra di navigazione. Voi potete scegliere di avere la barra di navigazione fissa in questo modo, avere la barra di navigazione che è a scomparsa e che poi appare dal basso quando volete, oppure, vedete, le gestures con cui comandare essenzialmente il telefono. Vedete, per tornare indietro, uno swipe dal basso verso l'alto, per avere le applicazioni recenti, basta essenzialmente fermarsi a metà con il dito quando fate lo swipe, invece, ad esempio, quando io voglio entrare, faccio l'esempio di questo preciso istante, clicco su un articolo, e voglio entrare in un articolo, per tornare indietro fate uno swipe laterale, quindi molto facile da gestire, molto semplice, però, insomma, se non vi piace potete sempre optare invece per la soluzione più comoda, cioè quella che vi ho mostrato prima, quella dei tasti sul display. Altra novità importante, il cursore dell'audio. Vi faccio vedere una cosa, cosa succede? Quando io sposto il cursore, adesso appare essenzialmente sul display un pop-up che mi dice qual è la modalità che io in quel momento ho attivato. C'è un'altra cosa importante, noterete gli scatti da vibrazione, si va a silenzioso, quindi, insomma, è stato cambiato l'ordine dei passaggi, delle modalità audio per riuscire ad avere il suono, poi la vibrazione e poi il silenzioso, come era normale che fosse, forse, anche dall'inizio. Giro il telefono per guardare la parte posteriore con il sensore delle impronte digitali, non è più tondo il sensore delle impronte digitali, adesso viene fatta una versione, vedete, leggermente ovalizzata, ellittica, molto bella, doppio sensore fotografico, 16 più 20 megapixel per gestire le immagini nella parte posteriore, c'è anche la stabilizzazione delle immagini e un'apertura 1.7 del sensore fotografico, e poi c'è la fotocamera anteriore con 16 megapixel, fotocamera anteriore che ha una nuova funzionalità di cui parliamo, esattamente tra un secondo. Abbiamo detto fotocamera e allora diamo un occhio a quella che è l'interfaccia del telefono, modalità video, modalità foto e modalità verticale. modalità verticale vuol dire modalità ritratto. Attenzione perché per quanto riguarda poi la gestione della fotocamera avete la possibilità di attivare anche una modalità pro con cui gestite tutti i dettagli e poi lo slow motion. Slow motion, vi faccio notare un dettaglio, potete scegliere per lo slow motion tre modalità di ripresa, tra l'altro potete scegliere essenzialmente se andare a 720 pixel e a questo punto avete 480 frame al secondo oppure andare a 240 frame al secondo con 1080 pixel. Bastano per lo slow motion? Certo, ci sono altri telefoni che vi offrono delle soluzioni più avanzate, arrivate addirittura ad avere delle soluzioni con 960 frame al secondo. Non so, insomma, se siano strettamente necessarie. Vi mostro anche quello che succede quando volete scattare una fotografia. Adesso siamo in modalità tra l'altro slow motion, quindi adesso non ci interessa. Vediamo immediatamente quello che succede. Punto il mio oggetto, l'HDR automatico in questo momento si è attivato, vedete, scatto, memorizzazione praticamente istantanea e risultati delle foto veramente buoni. Cancello adesso questa fotografia, vi faccio vedere un altro dettaglio invece che riguarda la fotocamera anteriore. Allora, adesso vedete, non c'è nella fotocamera anteriore la modalità portrait, ma la modalità portrait arriverà prestissimo anche in funzione sulla fotocamera anteriore. Quindi un algoritmo di intelligenza artificiale vi permetterà di gestire anche la fotocamera anteriore con la possibilità dell'effetto bokeh sullo sfondo. Quindi, diciamo, una fotocamera molto completa, molto semplice anche per alcuni aspetti. Vedete sulla parte superiore del menu voi potete scegliere quale formato fotografico utilizzare tra i 19 e i 9, oppure il formato quadrato, quello che tipicamente si usa per Instagram. Insomma, una fotocamera secondo me è più che buona, il risultato degli scatti è discreto, non siamo ancora dei livelli esagerati, però devo dire che è migliorata molto rispetto alla versione precedente, cioè quella del 5T. Poi, sull'utilizzo della fotocamera, io ho sempre bisogno di un po' di tempo per entrare meglio nelle funzionalità. Dovendo guardare che cos'altro offre il telefono, vi dico intanto che c'è la modalità gamers, che quindi permette essenzialmente di concentrare la potenza che avete di calcolo del processore, lo Snapdragon 845, sull'applicazione che state utilizzando come gioco, sottraendo essenzialmente risorse alle altre applicazioni. Il gaming mode, tra l'altro, vi permette anche di non avere essenzialmente notifiche o altri elementi che vi disturbino nel momento in cui voi state giocando. Altro elemento fondamentale, invece, per il telefono è quello, essenzialmente, delle gestures. Allora, potete usare il doppio tocco per riattivare il display, capovolgere il telefono per togliere l'audio, fare uno screenshot con tre dita. Vi faccio vedere anche una cosa, se riesco a fare con tre dita. Quando fate lo screenshot, potete anche schiacciare, essenzialmente, su questo triangolino. Non lo vedete bene adesso, perché forse non è questa, diciamo, la soluzione migliore. Ve lo faccio vedere meglio. Ve lo faccio vedere qui. Allora, tre dita per lo screenshot, schiaccio questo triangolino, lui scrolla verso il basso, vedete fino a che io non do un altro tocco e a quel punto il mio screenshot viene completato. Potrei avere anche una pagina lunghissima con cui fare una foto particolarmente profonda. Quindi anche questa è una funzionalità molto interessante, molto carina. La barra di stato, ecco, potete scegliere lo stile della batteria, quindi l'indicatore a cerchio, oppure nascondere addirittura la batteria. Potete scegliere di visualizzare la gestione, scusate, la velocità della rete e poi anche gestire le icone che voi vedete nella barra di stato. È davvero un software che, pur essendo vicinissimo al mondo stock di Android, risulta davvero molto completo. Io, ad esempio, scelgo anche, lo vedete adesso, scelgo il carattere di OnePlus, che si chiama OnePlus Slate, perché mi piace molto rispetto al roboto, che è il carattere material per eccellenza. Notch, ecco, questa è una cosa importante. Guardate il notch. Quando aprite un'applicazione viene nascosto automaticamente con una barra nera. Vedete, compare sempre la barra nera, essenzialmente, che vi lancia la presenza del notch. Dal mio punto di vista, tra l'altro, questo è meglio rispetto alle applicazioni che vengono messe a tutto schermo, magari andando ad intaccare la grafica dell'applicazione stessa. Preferisco di gran lunga questa cosa di avere la barra in automatico. Con un prossimo aggiornamento software sarà possibile, penso anche, nascondere la barra, se non ricordo male le indicazioni che mi sono arrivate. Ecco, sottolineo che questo è rigorosamente il launch stock, molto semplice, molto basico, che vi permette, in alcuni casi, non con tutte le applicazioni, però vedete anche di avere quelle che sono le estensioni del menu tipiche delle nuove versioni di Android. Quindi avete visto che premendo a lungo su Twitter appaiono alcune opzioni supplementari. Non tutte le applicazioni vi permettono di farlo, ad esempio lo vedete su Gmail per quanto riguarda la scrittura. Vi faccio sentire una cosa importante, perché l'audio è sempre un aspetto fondamentale del telefono, un audio che è discreto per quanto riguarda OnePlus, ma non credo che il lavoro di OnePlus fosse concentrato molto nel fatto di avere un audio di livello esagerato. Ecco, sentite, l'audio è buono, solo nella posizione inferiore, ho dovuto alzarlo per uscire solo dal basso, quindi essenzialmente audio che non è con la riproduzione stereo, con una qualità in cui i medi e gli alti sovrastano, e comunque con un buon volume. Non credo che la riproduzione dell'audio sia la cosa fondamentale, non a caso OnePlus ha preparato le nuove cuffiette, cuffiette, non le bullets wireless che arrivano proprio nei prossimi giorni, tra l'altro ad un prezzo molto conveniente. Allora, c'è una cosa importante da dire per quanto riguarda invece l'impermeabilità. OnePlus dice che questo è un prodotto impermeabile per il daily average usage. Questo vuol dire che c'è una protezione dell'acqua se sta piovendo, c'è una protezione se arriva uno schizzo d'acqua all'improvviso da un bicchiere d'acqua, ma questo non è un telefono con cui immergersi in una piscina per fotografare qualcuno. Non c'è una certificazione IP67, IP68, ma appunto OnePlus garantisce che ci sia comunque una capacità di sopportare gli schizzi nella vita quotidiana. Vi ricordo che all'interno c'è lo Snapdragon 845, 6 o 8 giga di RAM, 64, 128 o 256 giga di memoria interna. Come sempre per quanto riguarda il mondo di OnePlus non c'è espansione di memoria e questa è una delle caratteristiche tipiche di questo smartphone. Vorrei tornare a dare un occhio da vicino al telefono per quanto riguarda l'estetica. Vedete, c'è una leggera sporgenza della fotocamera nella parte posteriore, non è fastidiosa, non è tagliente tra l'altro. Nella parte superiore un profilo super pulito, mentre questo lato ha il pulsante di accensione e l'interruttore per le modalità audio. Sull'altro lato invece c'è il volume rocker comodo con una ottima corsa. Nella parte inferiore c'è l'attacco delle cuffie, per un attimo l'altro giorno in fase di presentazione qualcuno ha temuto che fosse stato rimosso. E poi il connettore USB Type-C e infine l'altoparlante. Queste sono essenzialmente le caratteristiche fondamentali. Notch con la fotocamera anteriore e con il resto poi il display che occupa praticamente quasi tutta la superficie frontale. Io vorrei farvi vedere i dettagli di lavorazione dello spigolo perché credo che sia incredibilmente più bello e molto più curato rispetto al modello precedente, il 5T. Stiamo parlando di un modello secondo me molto sofisticato. Ci siamo fermati prima nel guardare alcuni dei dettagli delle gestures. Allora andiamo subito a vedere, torniamo a vedere le gestures come le stavamo guardando qualche secondo fa. Ci eravamo fermati sullo screenshot, doppio tocco per riattivare e poi potete disegnare anche sullo schermo spento essenzialmente per attivare alcune delle applicazioni. Io non uso questo genere di funzionalità però vedete che è a vostra disposizione. Potete scegliere voi una delle funzionalità del telefono oppure una delle applicazioni a vostra scelta. Siete davvero voi a decidere che cosa volete fare con le dita. Poi vedete per il resto il sistema è assolutamente un sistema stock con però alcune funzionalità molto interessanti. Ad esempio come l'app locker. Potete cioè scegliere di aprire alcune delle applicazioni del vostro telefono utilizzando la password, il pin oppure il sensore delle impronte digitali che è posto sul retro. C'è lo sblocco con il viso che è discretamente veloce, viene fatto abbastanza bene. Cerco di mostrarvelo in questo momento. Io blocco il telefono, lo accendo e guardo il telefono. Vedete come si sblocchi praticamente immediatamente con il mio viso. Cerchiamo di far vedere che è bloccato in effetti. Punto il mio viso, guardo il telefono e insomma il telefono si sblocca praticamente immediatamente. Credo di avervi detto veramente tutto di questo smartphone con 3300 mAh di batteria, Dash Charge per ricaricare in 30 minuti per usare per una giornata intera il telefono, USB Type-C come connettore, USB tra l'altro che è in modalità 2.0. E per quanto riguarda altre caratteristiche, insomma io vi ho detto praticamente tutto. Avete visto come funziona il telefono, avete visto com'è il display, com'è il software. Avete anche la modalità dark, se vi piace un software con un colore scuro anziché un colore chiaro. Avete il gaming mode di cui abbiamo già parlato. Insomma un sacco di potenza, se vi mancano ancora informazioni o volete ulteriori informazioni, beh non esitate a chiedermele. Ma io voglio sapere da voi, vi piace e soprattutto qual è il vostro colore preferito?